Findus presenta Ristorante da mamma con Delizie di pollo. Più tardi esco. Giovanotto, questa casa non è un albergo, eh? Lo so, è un ristorante. Cosa c'è per cena? Delizie di pollo. Per me scaloppine, limone e salvia. Guardate il petto ripieno prosciutto e formaggio. È super ripieno. È il mio. Buonissime le scaloppine. È tutto petto di pollo. Ok, io domani esco. Calcetto e cena con i colleghi. Giovanotto, questa casa non è un albergo. Findus, il sapore della vita. Grazie.